Sei uno sfigato, ma cosa vuoi? Allora, questo è un fenomeno! Time Out è la prima tribute band ufficiale di Max Pezzali degli 883. Stavo dicendo, ma è troppo uguale questa voce alla mia. Perché è, diciamo, l'imitatore ufficiale, quello vidimato da Max Pezzali, si chiama Fabrizio Urbani e suona i Time Out. Esatto, e lui a volte è più me di me, diciamo. È un talento questa cosa, è incredibile. Questa è la storia di due ragazzi di Pavia, che passavano i loro pomeriggi in cantina, a scrivere canzoni e a sognare l'America. Dimmi come vai, da chi sarai? Lo strano percorso, di ognuno di noi. Non hai volato il rambino proprio perché, sei amico, non potriderai mai, niente, mai, niente, niente, mai. Non potrere, puoi venerti come Piazzano. Questo senso di vita che scende, che va dentro dino all'anima, bella, bulla, bulla, estate, caudissima, ma... Non sono le stesse, ma forse è quel che cerco neanche spremi. Non sono le stesse, ma starò cercando a me, io lo spremi. Ancunciso l'uomo l'agno, chi sia stato, non si sa, forse è quello è bella, ma la forse è la bobbisca. Ancunciso l'uomo l'agno, non si sa, e anche perché, avrà fatto la cascata, la guadagnostria di caffè. Tieni il tempo, collegate con le mani, tieni il tempo, non fermatevi dalla tua mani, tieni il tempo, poi avrà il che vedrai, Tieni il tempo, il ritmo non finisce mai, Tieni il tempo, grazie!